Benvenuti in questa nuova puntata di Animal Crossing Oggi siamo di nuovo insieme Anche se c'è stata un po' di pausa Eh sì, la mia connessione non è delle migliori ragazzi Oggi andiamo a vedere chi c'è qui con noi Perché non lo conosciamo ancora Perché come sapete da uno degli ultimi video che è uscito C'è stato un aggiornamento su Nintendo E quindi adesso abbiamo Volpolo Ma guarda chi c'è Sei di queste parti? Piacere, mi chiamo Volpolo E sono un commerciante Tu invece sei Belso, un gran bel nome Tra su da forza e intelligenza Ma so già che diventeremo grandi amici Anzi di più, parenti Piacere conoscerti Spero di non sembrarti invadente, cugina Ma tu hai l'aria di saperne parecchio d'arte Non ti stupirei, io ho occhio per queste cose E anche tu, che ci creda o no Il mio istinto mi ha suggerito di venire qui Un quadro possente Ehi, sono pronto a venderlo a te A solo a te Perché sei parte della famiglia A un prezzo speciale Che ne dici di 498 stelline Un vero affare, non credi Ma che cosa? Cosa? Quanto? Ah, ma parlavamo di destino, no? Il che mi ricorda che Tu sei come una cugina Per me, ok Facciamo così Ti farò il mio specialissimo E super brevettato Sconto cugini Solo 4009 Potrei diventare un'orgogliosissima proprietaria di un quadro possente Mmm, si abbassa ancora Però non mi aspettavo una risposta simile Io non mi farei mai sfuggire un affare del genere Ma come vuoi tu, cugina? Comunque io sono qui Se cambi idea, ricordatelo Ok, andiamo a vedere nella parte più remota della nostra isola Cioè nella spiaggia privatina Se ci sta la sua barchetta Magari lo possiamo vedere questo quadro Io sono curiosa Andiamo, andiamo È la nostra prima volta da volpolo Ah sì, c'è un altro pezzetto, scusatemi Ah, entriamo E andiamo da questo volpolo Questa barca ha un'aria sospetta Sarà meglio non salire a bordo senza permesso Ma io ci voglio salire Quindi niente, devo tornare indietro Rieccoci qui Riparliamo con volpolo E vediamo quale sia questo quadro Che dobbiamo comprare Per forza occhi chiusi Io lo volevo vedere prima Quindi diciamogli certo Non te ne pentirai Fidati So che ti permetti Mi prendo delle quelle stelline sonanti Pigliatele Lo sapevo Che una fine Conoscitrice d'arte come te Non si sarebbe fatta sfuggire a questa occasione Confido che ci sarà una prossima volta Sei uno di famiglia del resto Proviamo a metterlo qui Per vedere che cos'è Eccoci amico Abbiamo delle novità E tu Per noi ovviamente Quindi Ciao Il più cordiale Benvenuto al museo di campanelle Posso esserti d'aiuto? Sì Ho un'opera d'arte La nostra prima opera Da inserire in questo museo Che tipo di opera d'arte vuoi mostrarmi? Allora abbiamo solo una Quindi non è che c'è tutta la scelta Insomma Perché se ne può comprare Comunque una al giorno Un quadro possente Ed è anche originale Se i miei occhi Non mi mentono Non avrei mai pensato Di vedere questo capolavoro Invece eccolo Un quadro possente Dunque se tu donassi Questo quadro possente Ecco insomma Il mio sommo piacere Che posso dire Ora Nelle condizioni Di ampliare il museo Mmm C'è così tanto da fare Devo subito avviare I lavori di ristrutturazione A te vanno I miei più sentiti ringraziamenti Quindi Noi adesso Non facciamo niente Cioè E per i lavori Che cosa dobbiamo fare? Non facciamo nulla Ci sono rimasta male Beh Diciamo che ci accontentiamo Ragazzi Ditemi se volete Una puntata Aggiornamento museo Sì Dico aggiornamento museo Perché in fin dei conti Lo ho ampliato parecchio Quindi proviamo a riparlare Con Volpolo Vediamo se ci dice qualcos'altro Mi hanno proposto Un ottimo affare Il livare un vecchio Mmm Quest'isola ha qualcosa di speciale Sai Quando sono tutti gentili e generosi Si fidano l'uno dell'altro Ma pensavo che ci invitavi Sulla tua barca Invece no Volpolo ci abbandona così Ci ha venduto la sua opera del giorno E non ci dice nient'altro Quindi Mmm Ancora dobbiamo scoprire il resto Intanto Mi pianto un po' dei soldi Ah un po' de grana Ma nonna Non buco devo fare giusto Uno Allora di solito lo faccio con 38 O 30 Quindi vediamo se fa Ah l'ha sotterrati Ok Quindi avremo Delle belle piantine di soldi Ho 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 Vorrei andare a parlare con Nook E chiedere Che cosa dobbiamo fare E si Dobbiamo pagare il nostro mutuo di casa Mmm Abbiamo pagato quest'altra rata del mutuo Non vi faccio vedere tutta la tiritera Perché oramai la sapete insomma Oh salve salve Mi hai sentito i ringraziamenti Per aver estinto il tuo debito De nada Fatto C'è voluto una marea Però A proposito di casa Sei venuta a parlarmi di casa? Sì Allora vorrei sapere Come si può personalizzare? 5000 stelline Se effettui l'ordine adesso Sarà pronta entro domani mattina Vuoi procedere? Sì Certo Fantastico Ti mostro subito il catalogo Va bene Che bello Ah in pratica scegliamo il tetto Oddio il tetto nero è bello però Viola Verde Celeste Blu Il giallo che abbiamo già Rosa E rosse Mmm Fatemi sapere nei commenti A voi quale colore vi piace di più per il tetto? Io Per ora la lascio così con me Allora Intanto vediamo la porta che mi interessa Al momento noi abbiamo questa Ci sono una marea di porte ragazzi Vediamo quella barocchina Mmm Da prigione Bella Allora Queste Queste sono carine Aha Rossa Fa un po' cazzotti Grigia Mmm Queste Sono particolari Un po' pesantine Questa Porta Graticcio Strana Quello blu Carina Quello blu Mazza È giallissima Non ce n'è una che ci va bene Forse blu Mmm No Cazzotti Eh È difficile la scelta della porta di casa Così 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 Queste Non so Sinceramente Pensavo fosse più semplice La scelta di una porta Ah Finalmente possiamo cambiare la nostra cassetta della posta Sinceramente quella di legno non è che mi dispiace tantissimo Però Ah ma ce ne sono altre Di diverse forme Oh E allora Questa forma Quella È così Oh Mi piace così Che belline Allora per il momento io la lascerei così Se avete Ovviamente Dei consigli da darmi Iscrivete lì nei commenti Oi Ma avete se mi è piaciato il video Sì Eh Io aspetto eh Intanto gli do l'ok Mmm Una scelta interessante Te fa schifo insomma È questo quello che mi volevi dire Giusto Noi Su quest'isola Tom Nook Che cosa dobbiamo fare Ah Mi pare di capire Non vedi l'ora di Conoscere i dettagli del mio piano per il concerto di KK KK Non lo so come lo pronunciano questo nome L'ho chiamato progetto K Mmm Il mio progetto si divide in tre fasi principali Prima cosa Ci servono più visitatori Poi dobbiamo bisogno di altri abitanti Infine dobbiamo darci da fare per migliorare l'immagine generale dell'isola Aumenteremo il numero di turisti E gli abitanti di Campanelle Sarà amata da tutti Al punto che la notizia arriverà all'orecchio di KK Quale arriverà a fare un concerto qui Dunque La prima fase è aumentare il numero di turisti Aggiungendo un'area campeggio sull'isola Così sarà più facile per i visitatori Farsi un'idea di come si vive qui E sarà anche un'ottima pubblicità Tutto questo potresti tirare fuori il tuo smartphone Ehi Tanto te l'ho pagato oro il suo telefono Oro Allora Ecco fatto Ti ho inviato lo schema per un kit area del campeggio Conto su di te per la creazione Oltre alla scelta di dove piazzarla sull'isola Mi raccomando Voglio dare uno sguardo veloce a questo progettino Allora ci serve il legno normale Il legno morbido Il legno duro E il minerale di ferro Quindi devo volare un attimo a casa a prendere il tutto Adesso mi darò alla pota Così avremo lo spazio che ci serve Parabam Sì lo so c'era un insetto Ma lasciamo stare Allora Siamo sul versante ovest dell'isola Avvicino a un'adorabile cascata Visto che ne ho due E avrei pensato Di aggiungere Anche Qualcosa dopo Magari ci metterò pure una rampina Vicino Così sarà pure più comodo salire Quindi io la metterei giusto qua In mezzo Come a mercoledì Ok Ah carina Allora Io non l'attaccherei troppo al fiume Quindi la lascerei così Perfetto Mettiamola qui Così abbiamo un po' di spazio davanti Da allestire Un po' di fianco Se ci vogliamo aggiungere qualcosa Ok L'area campeggio È fatta Nella prossima puntata Probabilmente la vedrete finita Quindi vedremo Chi verrà sulla nostra isola Vi faccio vedere il frutteto che ho creato Impostando praticamente uno spazio Ho messo tutti i frutti che ho Per creare una sorta di mini boschetto Questa piantina non vuole crescere È inutile Non vuole crescere ragazzi Ho creato anche un piccolo angolo ristoro Devo creare la panca ad appoggiarci Poi vabbè sto sempre con le tasche piene Quindi prende a mollo la roba in giro Ma non vi preoccupate E qui ho fatto una piccola parte di spiaggia Dove ci vorrei mettere tipo bancarella Che vende dolcini o gelatini E qui ho provato a fare la mini discarica Dell'isola Perché abbiamo tutti degli abitanti scostumati Come nei nostri paesi Città E quindi ho voluto ricrearla anche qui No in realtà Era perché mi avevano consigliato di farlo Perché dicevano che dalla spazzatura mucchiata Nascevano le mosche Cioè nascevano Spaunavano In realtà non è successo Quindi non so che dirvi E andiamo a vedere la mia rapa abbandonata Che è qui giù Da cui troviamo le formiche Una tenetevela La fate marcire E così avrete le formichine Che non sono vendute Non hanno un prezzo molto alto Quindi non è che servono a chissà che A parte farle registrare Sull'isola è venuto anche Flink O a meglio E noi lo conosciamo in italiano Come Ivano Un draghetto punk Molto figo Però che parla tantissimo E si fa dei complessi sugli insetti Adesso man mano Gli sto mettendo da parte Perché lui li paga molto di più Rispetto a Marco e Mirko Quindi una cosa molto buona Ho un pacchetto Lo voglio Non c'ho la fionda Un tutù Seriamente? Oh c'è una notifica Ho sbloccato un sacco Di aghipment ragazzi Ho trovato anche L'amantide orchidea Bellissima Nasce però In degli orari Veramente Che magari Non ci gioco tantissimo Per fortuna l'ho trovata E questi sono gli insettini Che ho sbloccato Fino adesso Allora Andiamo a vedere le miglia Ho sbloccato pure qui Un botto di roba E ho preso Anche tanti miglia Come vedete Yeee Ho sbloccato L'avatar materialista Ragazzi Per questa puntata È tutto Vi mollo E ci vediamo Alla prossima Spero che vi sia piaciuto Mettete mi piace Condividete Commentate Hashtag Animal Crossing Alla prossima Ciao 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 Ciao